All'indomani del tentato suicidio di Bernardo Provenzano sono tanti i dubbi sulle reali intenzioni del boss di Cosa Nostra di togliersi la vita. Provenzano in carcere a Parma in regime di 41 bis è stato salvato dal pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria. Secondo la prima ricostruzione il boss avrebbe tentato di togliersi la vita infilando la testa in un sacchetto di plastica. Difficile dire se si sia trattato di un autentico tentativo di suicidio di un gesto dimostrativo. Mi chiedo che ci faccia un sacchetto di plastica in una cella dove si trova un detenuto sottoposto a 41 bis, ha chiesto il legale di Provenzano Rosalba Di Gregorio. Di Gregorio ha anche sottolineato come Provenzano sia l'unico detenuto del braccio del carcere di Parma e che giorni fa era stato discusso in tribunale in una perizia psichiatrica sul suo assistito che aveva concluso definendo Provenzano perfettamente lucido, senza depressioni né nulla. Chiedo un'inchiesta per capire alcuni fatti anomali di questa vicenda, innanzitutto per capire cosa ci facesse un sacchetto di plastica nella cella di un detenuto al 41 bis. Solo alcuni giorni fa abbiamo discusso in aula in una perizia psichiatrica, io avevo posto il problema che vi era un evidente decalimento fisico e psichico, ma i periti nominati dalla corte non sono stati di questo avviso e n'escluso controindicazioni al regime carcerario. Oggi invece veniamo a conoscenza di questo fatto. Intanto il boss Bippo Calò, detenuto nel supercarcere di Ascoli, che ha avuto una crisi cardiaca ed è stato trasportato in una struttura ospedaliera di Ancona, sarebbe dovuto comparire in teleconferenza in un processo che si celebra davanti alla corte d'assisi d'appello per l'omicidio di Calogero Gigino Pizzuto, avvenuto da Grigento nell'81. Nello stesso processo è imputato Bernardo Provenzano, ma dagli ultimi fatti accaduti la deposizione è stata rinviata.